... Miglior giocatore del mese di novembre, oggi migliore prestazione con 36 punti e con noi Tai Sabin. Parto subito io con una curiosità. Tai, ma quanto sei forte? È stato un mese molto difficile e noioso, soprattutto perché ogni volta che ci siamo preparati mentalmente per una partita è saltata la prima, la seconda volta, ma abbiamo lavorato molto duro e questa cosa ci ha permesso di essere pronti anche stasera. Allora Tai, ho visto che dal pitturato, dai 6,75, non hai problemi a tirare, ma hai un uno spicchio del campo, una parte del campo particolare per cui ti fa concentrare per il tiro quello giusto? Sicuramente il pull-up è il tiro che mi viene più facile, ma cerco di lavorare ogni giorno nei punti dove non sono tanto forte, cerco sempre di migliorarmi ogni giorno e lavoro duro per sentirmi comodo in ogni parte del campo. Questo è il mio lavoro. Coach Maffezoli ti ha fatto i complimenti per la prestazione di questa sera, che sono praticamente i complimenti a tutta la stagione che stai facendo con la gestistica e si è meravigliato perché questa stagione praticamente è di gran lunga superiore a quella che è stata la tua corrida fino ad adesso e non si spiega il motivo. Ce lo puoi spiegare tu? Il discorso è di cercare di migliorarsi ogni giorno, cercare sempre di essere migliore del giorno prima, lavorare duro per questo. È chiaro che pensare al futuro e sognare è molto importante, però giorno dopo giorno il lavoro duro è quello che paga sempre. Hello. Quello che abbiamo visto è il sub migliore o ci sono ancora margini di miglioramento? Si può sempre far meglio. Do you remember what we say every time that we finish the interview, no? Fortunati! Yeah! Ciao, we got... Ciao! No! 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 Grazie a tutti.